Oggi voglio dire a chiare lettere che con il calestro di Davide Meluzzi a pochi secondi dalla fine ho goduto. Ho goduto perché ho visto una cornice di pubblico da primissimo ordine, ho visto veramente una squadra forte che ha saputo reagire, come hai detto tu, ai primi due quarti. Lo staff ha lavorato molto bene, Coach Coen veramente ci ha messo il massimo affinché i ragazzi si svegliassero dopo i primi due tempi, i primi due quarti. Quindi oggi la squadra ha dimostrato, come sto dicendo ormai da parecchie settimane, di essere una squadra con l'S maiuscola e in queste semifinali noi abbiamo incontrato la squadra più tosta, oggi l'ha dimostrato sul campo, però noi ce l'abbiamo fatta. L'intensità messa in campo per 40 minuti, soprattutto dopo l'intervallo lungo, l'atmosfera è una vera serie semifinale playoff? L'atmosfera la dice tutto, avevamo 2000 presenze oggi, credo che per un campionato di Serie B sia un'anomalia, chiamiamola così, come ho detto prima, un pubblico meraviglioso, soltanto che i festeggiamenti finiranno alle 23.59, dopodiché bisognerà rimettere 0-0 e pensare alla gara di martedì. Purtroppo abbiamo fatto una partita dai due volti, i primi due quarti difensivamente abbiamo fatto una partita abbastanza scarsa, non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato durante la settimana e quindi loro sono stati bravi a punirci con delle percentuali molto alte. Terzo e quarto quarto, terzo e quarto soprattutto dove abbiamo rimontato, la difesa è cambiata notevolmente, abbiamo iniziato ad alzare l'intensità e quindi abbiamo preso fiducia e anche in attacco ci sono riuscite delle cose che magari nei primi due quarti non sono riuscite.